Sunlight Cliff ovvero la gamma di furgonati della Sunlight quindi con un'attenzione importante al discorso prezzo con un prezzo di stino che è molto competitivo ma con una qualità un'attenzione al dettaglio che comunque rimane quella tipica di Sunlight che non è per niente male se andiamo a vedere nei dettagli noteremo ad esempio un numero di pensili ripostigli armadi eccetera che è veramente da primato è molto importante su un furgonato ed è difficile trovarlo sempre così come vedremo nel discorso imbottiti che il materasso è costruito a 5 zone variabili ovvero con il comfort di quello esattamente di casa questo è un prototipo vedremo la versione definitiva ma al 99% sarà così veramente un bel mezzo